Ciao ragazzi, sono Luca di GB Music Lab, bentornati sul canale. Ho uno scatolone marchiato Headrush, nuovo di pacca, ancora chiuso, unboxing, anche perché ho il taglierino solito. Vediamo cosa c'è dentro. Bene, non mi aspettavo assolutamente l'arrivo già di questo pacco. Lo apro insieme a voi in diretta. Ok, il taglierino non serve più. Ho fatto un po' di fatica a tirarla fuori, ma abbiamo la nuova Headrush Core. La versione un pochino più piccola, più portatile, che stavamo aspettando, guardiamola assieme. Rieccomi. Allora, me ne sono arrivate due. Una è un'unità demo, quindi se volete venire a provarle in negozio, noi siamo qua a soddisfarvi con la loro cassa da 8 e da 12. Quella che volete c'è per provarla. Apriamola insieme. Io non ho idea ancora, ho letto giusto qualcosina, ma non l'ho ancora né sentita, né sono entrato nel merito delle funzioni. Quindi, vediamo insieme cos'è. Mi serve ancora il cutter, però. Apriamo, scatolone canvas classico. Aspettate che lo appoggio a terra e tiro fuori. All'interno della confezione troviamo il solito manualetto d'uso. In realtà, poi, è meglio scaricarsi quello in PDF dal sito perché è molto più completo. Via. Cavetto USB. Via. Alimentatore. Non ve lo faccio vedere, tanto va collegato semplicemente alla macchina. e soprattutto la Prime. Ancora in cellofanata. Ho detto Prime, ma non è la Prime. Eccola qua. La nuova Headrash Core. Che cosa vediamo al volo? Anche perché oggi non l'attacco. Anzi, se volete sentirla, scrivetemelo nei commenti e vi faccio un test con Ale o Daniele. Ragazzi, partiamo dal pannello posteriore che è il primo che viene utilizzato quando si inserisce lo strumento e vediamo come è fatto. Cosa c'è? Che uscite ci sono? Che ingressi ci sono? Vi faccio anche una carrellata a video così li vedete tutti nel dettaglio. Partiamo dall'ingresso microfonico perché, come la Prime, è pensata per essere usata anche per la voce. Quindi è presente ancora l'autotune ed è presente un ingresso dedicato XLR per i microfoni. La parte invece dedicata alla chitarra o al basso invece ha i soliti ingressi, le solite uscite di Edrash. Quindi chitarra, pedale espressione, send and return, ausiliario, cuffie, doppi ingressi, sia jack a memoria TRS, ma devo andare a controllare, che XLR, quindi Canon, dovrebbero essere bilanciati entrambi. Prendetelo con le pinze, sto andando veramente a memoria. Mid-in e mid-out, le due prese USB e l'alimentazione con il pulsante di accensione e spegnimento. Sul pannello davanti invece cosa troviamo? Il solito touchscreen da 7 pollici, quindi bello grosso e comodo. 5 pulsanti come li aveva la pedalboard, quindi un concetto differente da quella che era l'ultima MX5 uscita. Come potete vedere, manca il pedale espressione, c'è l'uscita a parte per usarlo. Il pulsante joystick classico che vi permette di controllare tutto il pannello se non volete usare il touch, ma una delle sue caratteristiche di facilità d'uso è proprio il touchscreen. E i due comandi di volume, il generale e le cuffie. Anche in questa, come nella Prime, è presente la parte per clonare gli ampli. Io sono molto curioso di provarla, magari di compararla con la Prime. Se siete interessati anche voi, scrivetecelo nei commenti che magari realizziamo due prove. Una della core singola, così vediamo un attimino il funzionamento, soprattutto per la gestione dei 5 switch. E magari la mettiamo anche a confronto con la sorellona maggiore, che è la Prime. Tanto le abbiamo qua tutte e due. Vi ricordo, se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella e mettere un mi piace. Ci vediamo prossimamente. Ciao! Ciao!